Un giorno speciale, un giorno in cui poter realizzare un piccolo sogno, un giorno che dia l'opportunità di assaporare un po' di quel senso di libertà che tanto manca. L'evento Detenute in Passerella si propone di ricreare un clima armonioso e collaborativo per le detenute del carcere femminile di Pozzuoli, che si immergeranno nel ruolo di modella per un giorno, sfilando in Passerella con abiti firmati d'eccezione. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, la seconda edizione, che si terrà giovedì 26 marzo alle ore 15 nella struttura carceraria di Via Pergolesi, si annuncia ancora più spettacolare ed emozionante. Quest'anno saranno 20 detenute che sfileranno gli abiti di Gianni Molaro, uno stilista per eccellenza, e poi sfileranno i capi di una scuola, che è la Ipia Marconi di Giuliano, e gli abiti in TNT fatti dallo stilista Manuel. Quest'anno abbiamo un po' cambiato, stravolto come sempre il nostro progetto, l'evento, perché al di là del fatto che indosseranno gli abiti dello stilista di Gianni Molaro e quindi come dicevo di Manuel e della scuola Marconi, ci saranno comunque delle ragazze che si sono inserite, grazie al nostro corso di portamento che abbiamo fatto anche l'anno precedente, si sono inserite proprio nella mia accademia, quindi sono parte attiva, parte integrante di questo progetto e soprattutto adesso della mia accademia. Quindi lavoreranno e saranno delle modelle, diciamo, professioniste. Sulla passerella sfileranno anche otto modelle dell'Accademia della Moda di Anna Paparone, che mostreranno gli abiti della collezione 2015 dello stilista campano di grande rilievo Gianni Molaro. Spazio anche all'artista emergente Manuel Artis, che avrà modo di presentare le proprie idee facendo indossare alle detenute abiti realizzati in materiale TNT, tessuto non tessuto. Un progetto organizzato dalla PMP Academy in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Pozzuoli, sottolineando in questo modo l'attenzione e l'interesse dell'organo rosa alle recluse e alle loro esigenze. Dai la possibilità a loro di integrarsi nel sociale, che per loro è molto difficile, quindi per chi ha la possibilità, anche in una minima parte, poter entrare nelle carceri e poter dare la possibilità a queste ragazze di essere protagoniste per un giorno e anche poi di pensare ad un domani diverso da quello che sono stati loro trascorsi, io credo che bisogna farlo. Noi ci abbiamo provato l'anno scorso grazie al Comune di Pozzuoli, soprattutto nelle vesti dell'assessore Stellato, che è sempre una donna dalle mille, mille iniziative, che ci ha appoggiato in questa iniziativa e abbiamo aiutato tantissime detenute. Le modelle d'eccezione, compassione e serietà si stanno preparando all'evento attraverso un corso di portamento e di bontone. All'interno dello stesso carcere saranno inoltre truccate da professionisti di make-up e da importanti hairstylist. Ospiti della serata il cantante felice romano e lo showman Diego Sanchez. Presenzeranno inoltre la direttrice della casa circondoreale Stella Scialpi, il primo cittadino Vincenzo Figliolia e l'assessore alle politiche sociali Teresa Stellato. Un momento di svago questo che getta però le basi per progetti ben più importanti come quello del reinserimento e della rieducazione delle detenute. Grazie. 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 Grazie.